Ben trovati al consueto appuntamento con informazione di Telebari, ANM Bari magistratura indipendente e ordini avvocati di Bari rendono noti i dati sulla inadeguatezza degli organici della magistratura all'interno degli uffici giudiziari del distretto barese. Roberto Maggi. 88 magistrati contro i 125 di Palermo, i 110 di Catania o ancora i 95 di Genova. Una grande sproporzione pur con bacini di riferimento equiparabili. ANM, magistratura indipendente e ordine degli avvocati di Bari, chiamano a raccolta la società civile per fare fronte unico e ottenere al più presto interventi risolutivi da parte del Governo nazionale. Il punto è che le carenze di organico della magistratura non sono un problema dei soli magistrati ma di un'intera comunità, dai semplici cittadini al mondo del commercio a quello dell'imprenditoria. Rappresentanti politici e organizzazioni di categoria infatti erano presenti al tavolo organizzato al Tribunale di Bari proprio per fornire i numeri dettagliati di un'emergenza nota a tutti. A Bari, nel civile per esempio, ogni magistrato ha in media un carico pendente di circa 1500 procedimenti. Nel penale invece, dove il carico medio è di 720 giudizi, la magistratura non riesce a tenere il passo delle forze dell'ordine. La nuova legge di bilancio prevede l'assunzione di 500 nuovi magistrati su tutto il territorio nazionale. La speranza per i presidenti di ANM Bari, Giuseppe Battista, è che una parte consistente sia destinata a rimpolpare l'organico di questo distretto pur nella consapevolezza che per tutti questi disagi Bari non è più, come un tempo, una sede appetibile per i nuovi magistrati. All'ultima tornata su 20 domande che sono state proposte, la quasi totalità sono state revocate. Molto probabilmente, anzi sicuramente, su ciò ha inciso da un lato il carico di lavoro che aspettava questi colleghi, che è notevolmente alto, dall'altro i problemi logistici dell'edilizia barese che sono, credo, noti a tutti i cittadini. La prospettiva di venire a lavorare con un carico enorme senza avere un ufficio degno di questo nome, intendendo per ufficio la struttura fisica dove rimanere a lavorare, credo che abbia avuto un effetto deterrente nei confronti degli aspiranti colleghi, degli aspiranti al trasferimento. Spacciandosi per un impiegato comunale avrebbe truffato almeno sei anziani nei comuni di Acquaviva, San Michele, Adelfia e Martina Franca. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 49enne di Secondigliano in provincia di Napoli che adesso dovrà rispondere di furto aggravato e truffa. I fatti che vengono contestati all'uomo risalgono al periodo compreso tra agosto e ottobre del 2018, quando l'uomo si sarebbe introdotto in diverse case abitate da persone anziane, spacciandosi per geometra o dipendente comunale incaricato di effettuare i rilievi per l'esenzione del pagamento delle imposte immobiliari, avrebbe derubato almeno sei persone. L'arrestato associato alla casa circondariale di Napoli in tre mesi sarebbe riuscito a sottrarre alle vittime circa 10 mila euro complessivamente. I finanzieri di Trani hanno sottoposto a sequestro oltre 2.700 bombole di gas imbottigliate illecitamente non conformi agli standard di sicurezza. L'operazione trae origine dalla denuncia presentata dalle fiamme gialle da una nota azienda a livello internazionale che produce e distribuisce bombole di GPL a uso combustione. Le bombole sequestrate quindi venivano sistematicamente riempite con GPL di difforme fabbricazione e provenienza rispetto al marchio impresso sulle stesse per poi essere vendute in tutta la Puglia in modo fraudolento, spesso con collaudi scaduti e dunque con grave pericolo per la sicurezza dei consumatori. Hashtag Voltiamo Pagina è l'iniziativa lanciata da Nicola Zingaretti in tutta Italia per promuovere le primarie del PD, iniziativa alla quale ha aderito anche Bari ieri con un volantinaggio in piazza Diaz. Anche Bari risponde all'appello di Nicola Zingaretti con un'iniziativa in piazza Diaz. Voltiamo Pagina. Sì, è un modo per coinvolgere i cittadini baresi sulle primarie del 3 marzo. Tra l'altro stamattina c'è anche una mezza maratona per cui c'è davvero tanta gente che sta correndo. Noi siamo in campo per costruire una nuova storia del PD, per farlo rimettere in campo a correre come tanti cittadini baresi stamattina stanno facendo. Voltiamo Pagina, dobbiamo archiviare la stagione di Renzi e dobbiamo rimettere in campo un PD che sia in grado di rispondere ai problemi dei cittadini italiani, provando prima di tutto a rispondere ai problemi economici e a quelli del lavoro. Zingaretti, sarà Bari nei prossimi giorni l'uomo giusto per riunire il centro-sinistra? È l'uomo giusto non solo per riunire il centro-sinistra ma per vincere le elezioni. Noi siamo pronti qui per fermare l'avanzata della Lega in giro per l'Italia, soprattutto per combattere contro questa autonomia dei ricchi, cioè l'autonomia del nord, che rischia di impoverire la sanità pubblica, il sistema del welfare meridionale e soprattutto rischia di prendere le risorse del sud e portarle al nord. Furto nella notte in via Partipilo nel complesso Farawan di Bari, dove un ladro ha sfondato a calci una delle vetrine del bar Frisina, si è introdotto nel locale e si è impossessato di circa 350 euro di monete contenute all'interno della cassa ed è scappato via a bordo di un'auto. È successo intorno alle 2.30, spiega il titolare del bar. Il ladro ha sfondato a pedate una vetrata ed è fuggito portando via gli spiccioli che avevamo lasciato in cassa. Stando a quanto racconta il titolare, a commettere il furto sarebbe stata la stessa persona che a maggio scorso, con le stesse modalità, era riuscito a impossessarsi di 150 euro di monete lasciate in cassa per il giorno successivo. Sul posto, per effettuare tutti i rilievi del caso, all'alba di oggi è giunta sul posto la polizia. Inaugurato questa mattina al villaggio del lavoratore, il comitato elettorale dell'assessore al commercio Carla Palone in vista delle prossime elezioni amministrative. La filosofia politica di Carla Palone è che oggi inaugura il comitato elettorale al villaggio del lavoratore ed è una scelta a caso perché si riparte dalle periferie. Riparto da dove torno perché abito al villaggio del lavoratore e torno qui e quindi è giusto ripartire con loro, con parte della mia comunità, con i miei amici, con le persone che mi chiamano Carla e non mi chiamano assessore, con il modo per dire noi ci siamo insieme, quindi siamo una grande famiglia, ripeto, una grande comunità e insieme possiamo andare anche oltre quella che è la periferia. Le aspettative elezioni amministrative 2019? Beh, abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto anche degli errori forse in questi cinque anni, però possiamo recuperarli, quindi oggi è darmi una possibilità, la possibilità di potersi recuperare e continuare quello che è un processo amministrativo di questi cinque anni. I punti di forza e i punti di debolezza? Beh, il mio punto di forza penso sia la legalità, ho combattuto tanto per questo, sia con gli operatori mercatali ma anche per la formazione durante San Nicola, quindi le fornacelle, ecco, quello è stato sicuramente un momento importante che mi ha fatto crescere, però mi ha dato la possibilità di stringere tante mani a tanta gente per dire ce l'abbiamo fatta e andiamo avanti. Importanti gli obiettivi raggiunti? Non so quanti siano, se sono tanti o sono pochi, sicuramente il bilancio è positivo, quello di far rivivere la città dal giorno e dalla notte, quindi dalla ruota panoramica in qualche modo a regolamentare quelli che sono i mercatini di Natale, la possibilità di dare incentivi a chi apre nuove attività commerciali e il supporto. Io nella vita faccio l'imprenditore, sicuramente dare una pacca sulla spalla a chi investe in città in questo momento per la politica, insomma, è un motivo di orgoglio. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Chiedo scusa all'inaugurazione avvenuta ieri mattina. Una targa di riconoscimento al cardiochirurgo barese Vito Giovanni Ruggeri, primario della divisione di chirurgia cardiovascolare toracica dell'ospedale di Reims in Francia. Questa mattina la consegna a Palazzo di Città. Professore, che significa per lei questo riconoscimento oggi nella sua città? È una soddisfazione grandissima perché permette di avere l'orgoglio oggi di essere un cittadino barese che ha potuto realizzare qualcosa di importante in internazionale. Ci pensa mai ad un ritorno qui in Italia? Penso sia normale che un cittadino che va fuori all'estero per lavorare abbia sempre un attaccamento importante, soprattutto ad una città, ad una regione come quella della Puglia, una città come quella di Bari, che è molto intensa dal punto di vista sentimentale. Quindi assolutamente sì, ci penso, ma la soddisfazione che oggi ho nel campo lavorativo non rende questo pensiero qualcosa che non si riesca a gestire, ma lo fallo, ci penso, senza farlo diventare un problema. Quanto è inciso il suo lavorare fuori per il raggiungimento, per andare avanti nella sua carriera? Fondamentale. Andare a lavorare fuori è stata un'apertura mentale importante e poi quello che ha inciso anche in maniera fondamentale è stato anche incontrare le persone giuste che hanno capito la problematica che vivevo di difficoltà di formazione e che hanno riuscito a colmare assolutamente questo gap che esisteva. Quindi se lei dovesse mandare un messaggio ai giovani medici baresi, quale sarebbe questo messaggio? Il messaggio per i giovani penso sia unico, quello che voglio mandare è l'idea di inseguire assolutamente le proprie passioni dovunque esse possano realizzarsi. e questa è la più grande soddisfazione, il poter al mattino svegliarsi ed essere felice di quello che si fa è la gioia più grande che un professionista possa avere. L'informazione termina qui, vi ricordo che per notizie e aggiornamenti potete consultare il nostro sito internet www.telebari.it. Grazie per averci seguito, a più tardi con l'informazione di Telebari. Il meteo è offerto da SGServiceSud.it Amici di Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà ancora pressione atmosferica relativamente alta sul Mediterraneo e sull'Italia. Le perturbazioni sono così costrette a passare lontane dal nostro paese. In effetti se guardiamo la nuvolosità prevista, ben poco da segnalarvi, qualche annuvolamento si farà vedere sulle regioni tirreniche per po' di umidità che arriva dal Mediterraneo occidentale, ma in realtà nubi di poco conto. Se controlliamo infatti le precipitazioni, nulla da segnalarvi, non prevediamo piogge, non prevediamo nevicate, tra l'altro in realtà ne avremo anche bisogno al centro-nordo questo mese di febbraio, a parte proprio l'inizio del mese è stato ancora una volta avaro di precipitazioni nelle regioni centro-settentrionali. Quindi in definitiva ci attende un martedì di bel tempo, un po' di nuvole sul versante tirrenico senza piogge, qualche nuvola anche sulle isole maggiori, attenzione a qualche foschia densa di notte e al mattino sulla pianura padana centro-orientale, soprattutto nel Veneto. Con questo è tutto per i dettagli, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da SGServiceSud.it